Il mago di Oz, capitolo 12, parte seconda. La strega malvagia fu molto sorpresa e ancora più preoccupata quando vide il segno sulla fronte di Dorothy, perché sapeva bene che neppure lei poteva alzare un dito su quella bambina. Quando poi notò le scarpe d'argento, cominciò addirittura a tremare, conoscendo il potente incantesimo che vi era legato. Era nel panico. Il primo istinto fu quello di fuggire. Poi però il suo sguardo si posò sul volto mite di Dorothy e esplorando i suoi occhi si rese conto che quella bambina era un'anima semplice. Non si rendeva affatto conto del potere immenso che aveva addosso, quindi c'era ancora una speranza di farla schiava e raggirarla in qualche modo per rubarle le scarpe. «Vieni con me», le ordinò Acida, «e vedi di obbedirmi, altrimenti ti farò fare la fine dei tuoi amici». Dorothy la seguì attraverso le cupe desolate sale del castello fino alla sudicissima cucina. La strega le ordinò di pulire pentole, calderoni e padelle, spazzare e lavare in terra. La bambina si mise al lavoro di buona lena, pensando che era una fortuna essere ancora viva. La strega la lasciò in cucina e si apprestò a imbrigliare il leone codardo per usarlo come animale da traino della sua carrozza. Lo raggiunse nel suo recinto, ma come aprì il cancello il leone ruggì selvaggiamente e le balzò addosso con tanta ferocia che la strega dovette andarsene all'istante e chiuderlo dentro. «Se non vuoi fare quel che ti dico», disse al leone attraverso le sbarre, «paterai la fame, parola mia». Passarono diversi giorni. La strega puntuale si avvicinava al leone a mezzogiorno e chiedeva «Sei pronta a farti imbrigliare?» «No, e se entri ti mordo», rispondeva il leone codardo. In realtà il leone non era digiuno come pensava lei. Dorothy gli portava da mangiare la sera, quando la strega non poteva vederla. Poi si accucciava lì con lui e Toto, posava il capo sulla sua criniera morbida e parlava con il suo amico dei loro guai, cercando una via l'uscita dal castello che però era sorvegliato giorno e notte dai lampucchi gialli. La bambina doveva lavorare sodo tutto il giorno e spesso la strega minacciava di picchiarla con un ombrellaccio nero se non ubbidiva in fretta i suoi comandi. In verità non aveva il coraggio di colpire Dorothy per via del segno sulla fronte, ma una volta aveva sferrato un'ombrellata al povero Toto e quello le si era avventato contro affondandoli i denti in una gamba. Poco male, per la cattiveria già da molti anni le si era seccato tutto il sangue. Col passare dei giorni Dorothy capiva che il suo ritorno in Kansas da Z.A.M. e Z.O.R. diventava sempre più difficile e di conseguenza si sentiva ancora più triste. A volte piangeva disperata con Toto accucciata ai suoi piedi che cercava di consolarla. A lui in verità non importava granché di trovarsi in Kansas o nel paese di Oz pur di essere con la sua amata Dorothy, ma vedere la sua padroncina infelice questo no non lo sopportava. La strega dell'Ovest moriva dalla voglia di impossessarsi delle scarpe d'argento. Tutto il suo potere era andato perso, ma con quelle addosso ne avrebbe avute dieci volte tanto. Stava molto attenta a cogliere l'attimo in cui la bambina se le fosse tolte. Dorothy però era fiera delle sue scarpine e non le toglieva mai, se non la notte quando ero vicino al leone codardo e quando faceva al bagno. In entrambi i casi la strega non osava avvicinarsi per paura del leone e terrore dell'acqua che non toccava mai neppure con la punta di un dito. Quella malvagia creatura era così astuta che alla fine scogitò un piano per ottenere quel che voleva. Appoggiò una sbarra di ferro in mezzo alla cucina e la rese invisibile con le sue arti magiche. Quando Dorothy inciampò sul ferro cadde lunga distesa, non si fece male, ma una scarpa le si sfilò dal piede. Prima che la bambina potesse rendersene conto era già nelle mani della strega che aveva infilato veloce il piede ossuto. Metà del potere magico di Dorothy ora era sua e l'altra metà non era più utilizzabile anche se la bambina avesse saputo come fare. Ridammi la mia scarpa, gridò Dorothy indispettita. Sognatelo, adesso è mia e solo mia, sghignazzò la strega. Sei proprio malvagia come dicono, non hai nessun diritto di prendermi la scarpa. E a me che me ne importa? Me la tengo chiuso, anzi, prima o poi ti prenderò anche l'altra. A queste parole Dorothy non ci vide più. Afferrò il secchio che aveva accanto e lo rovesciò addosso alla sua guzzina, infradiciandola da capo a piedi. La strega cacciò un grido isterico al quale seguì un vero prodigio. Sotto gli occhi incredoli della bambina che aveva ancora in mano il secchio, la vecchia malvagissima strega cominciò a liquefarsi, a restringersi, a diventare trasparente fino a scomparire. Guarda che hai fatto, scema, gridava quell'immagine sbiadita di strega dell'Ovest. Tra meno di un minuto non esisterò più. Oh, mi dispiace davvero, disse Dorothy sinceramente colpita dalla scena guardando la strega scomparire come un chenio di zucchero scuro dentro il caffè della mattina. Non lo sapevi che l'acqua sarebbe stata la mia fine? No, certo che no. Come avrei potuto saperlo? Beh, ora svanirò per sempre. Ancora un minuto e il castello sarà tutto per te. Sono stata malvagia ai miei tempi, molto malvagia. E mai avrei creduto che una cretinetti come te potesse liquefarmi mettendo fine alle mie cattiverie. Guarda, me ne sto andando. Con queste parole la terribile strega malvagia dell'Ovest cadde a terra in una pozza in forme scura e cominciò a penetrare nelle assi sconnesse del pavimento della sudicia cucina. Dorothy ripreso coraggio e constatato che della strega non restava più niente e tirò un'altra secchiata d'acqua e pulì lo sporco. Poi spazzò tutto fuori dalla porta e infine raccolse la sua scherpina d'argento. La pulì, l'asciugò con uno straccio e se la rimise al piede. Quindi corse felice a liberare il leone codardo e raccontargli come era finita la strega dell'Ovest. Finalmente non erano più costretti a rimanere prigionieri in un paese straniero.